Questa sera vorrei fare un discorso Meno poco e sono potuto fare quattro ore ore E quando si internavo altro che Altro che chiacchiere Altro che chiacchiere Cosa succede? Cosa succede in città? E qualche cosa, qualcosa che non va Guardami, guardala, che confusione Guardami, guardala, che male d'un piove Egoista, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo Quando ho il mal di stomaco Con chi potrei condividerlo? Oh, 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 oh Cosa succede? Cosa succede in città? C'è qualche cosa, sì, qualcosa che non va Siamo noi, siamo noi Quelli più stanti Siamo noi, siamo noi Che dovremmo andare avanti E dovremmo andare avanti E dovremmo andare avanti E dovremmo andare avanti E devoo eon E sicurosa c'è? E perché non? Perché non dovrei esserlo, quanto solma il mio stomaco, ce l'ho io, mi credevano, ce l'ho io, mi credevano. Cosa succede? Non succede nulla, c'è confusione, sì, nel fondo è sempre quella. Non c'è più, non c'è più religione, guarda lì, guarda là, anche in televisione. Non c'è più religione, anche in televisione, non c'è più religione. Non c'è più religione, guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì, guarda lì.